Covid. Abbiamo da sottolineare oggi risultati importanti in Campania. Abbiamo sfondato il muro dei 5 milioni di cittadini vaccinati. Di questi 5 milioni 41 mila vaccinati, 1 milione 700 mila cittadini hanno ricevuto la doppia dose. 3 milioni 300 mila, una sola dose. Abbiamo registrato in questa settimana una ripresa di vaccinazioni. Abbiamo richiamato nei giorni scorsi i nostri concittadini alla responsabilità. Mi pare che ci sia stata una prima risposta. I cittadini tornano a vaccinarsi. In modo particolare per i richiami, ma anche con prime dosi. Voi sapete che la Campania ha deciso di mantenere l'obbligo della mascherina. Per quale motivo? Perché abbiamo in Campania uno dei focolai nazionali della variante Delta, all'altro più consistente in Lombardia. La Campania, lo ricordo sempre, è la regione d'Italia con la più alta densità abitativa, l'area metropolitana di Napoli, la più alta densità abitativa d'Europa. Dunque il pericolo di contagio è molto più elevato e dobbiamo essere prudenti. La variante Delta, fra l'altro, ha una particolare aggressività nei confronti dei giovani e noi abbiamo in Campania la popolazione più giovane d'Italia. Nei giorni scorsi sono andati in terapia intensiva due ragazzi di 30 anni e 31 anni. Qualche giorno fa sono tornati, credo da Mallorca, alcuni ragazzi dell'Asla Napoli 2 che avevano partecipato ad una festa scapigliata a Mallorca e si sono presi il Covid con la variante Delta, parliamo i ragazzi di 18 anni. Dunque dobbiamo essere più prudenti per questi motivi. Vi do un altro dato che vi spiega per quale motivo dobbiamo fare attenzione.